Protagonisti dell'ultima puntata di Grande Fratello. Il recente episodio del Grande Fratello ha avuto come protagonisti principali Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinet e Elena Prestes. Durante la trasmissione, i concorrenti hanno visionato le riprese di Shaila e Lorenzo intenti a manifestare il loro affetto al gran hermano. Nonostante il momento romantico, molti GFini hanno rivolto critiche verso Shaila, che ha avuto una reazione accesa durante una pausa pubblicitaria. Rabbia di Shaila e reazioni del pubblico, Shaila ha espresso il suo disappunto con i compagni di avventura, affermando, mi dispiace per Favier, ma ho seguito il mio cuore. Sono sincera e ho sempre mostrato quello che sento. Non credo di meritare questo giudizio. Le donne possono prendere tempo per esplorare la giusta affinità con un ragazzo. La situazione è degenerata quando l'ex velina ha esclamato. Mi sento come se fossi sul robo. Non capisco cosa ho fatto di sbagliato. Tutti questi applausi a Javier mi sembrano esagerati. Cartooning Machine 2024, C-Prices, Cartooning Machine, Search Ads Looking for a Soulmate, Share Your Feelings and Emotions with Someone Cory Dates. Il nervosismo di Shaila è aumentato quando ha notato che, nonostante la loro preferenza presso il pubblico, l'ammirazione generale per Favier l'ha lasciata confusa. La concorrente ha ripetutamente manifestato la sua frustrazione riguardo agli applausi ricevuti da Javier, che non riusciva a comprendere in pieno, sentendosi quindi poco apprezzata e criticata per le sue scelte emotive. La sua battuta più incisiva è stata, i miei sentimenti sono reali, e non voglio essere etichettata come una persona che gioca con le emozioni. Membri del cast presenti nell'episodio I principali membri del cast di questo episodio includono Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martine, Elena Prestes